Sicuramente mi piace sottolineare l'aspetto giocoso, il paradosso che questo tipo di lavoro mette insieme dei temi molto profondi con la leggerezza del gioco. Ed è molto spesso grazie a questa leggerezza che si può arrivare più in profondità, perché ci si rilassa. E l'altro aspetto che amo molto in questo tipo di approccio è quello che ti obbliga a fare un passo di lato rispetto a tante abitudini. Ti dà quella piccola spinta per uscire da un certo tipo di loop di situazioni già conosciute. Ti obbliga a fare quel salto nello sconosciuto e questo mi piace tantissimo.